Eeeh, what's up a tutti, ciurme e benvenuti da Gekirina in questo nuovissimo episodio su Plagtail Innocence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno, dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo visto l'inizio di questo gioco E mi ha colpito davvero tantissimo, è stato un inizio col botto Adesso dobbiamo iniziare il capitolo 2 che si intitola Gli Stranieri C'è anche un riassunto, Amicia e suo fratellino Hugo perdono la famiglia durante un attacco dell'inquisizione Per catturare il bambino Hugo è cresciuto segregato dal resto del mondo a causa di una strana malattia E Amicia, che lo conosce a malapena, deve ora portarlo da Laurentius, il medico che lo aveva curato in passato Ok, questo pure mi piace ragazzi che facciano una sorta di riassunto di quello che è successo probabilmente nel capitolo precedente Per cui appunto il nostro obiettivo adesso è di portare il nostro fratellino da questo Laurentius Che a quanto pare è un medico Dobbiamo vedere ragazzi come riusciremo a cavarcela d'ora in avanti Adesso sarà un guaio però Un guaio ragazzi, hanno perso entrambi i genitori Così? Hugo Hugo Mummy won't be happy When she finds out I fell in the water Well Let's not mention it when we see her, all right? Come on First we have to get dry Ok ragazzi, allora Il nostro obiettivo attuale è di cercare aiuto Eh, cercare aiuto Ci ricordiamo che l'interazione con Hugo ragazzi sarà di vitale importanza probabilmente Missa, perché vogliono capire noi? Non lo so, non voglio pensare ora Se lo sapessi piccolino Sicuro, sicuro Pensavo che avremmo potuto prendere questi panni però Evidentemente non è così d'accordo Qua probabilmente non ci sarà nulla di aiuto Magari un po' più avanti Per cui procediamo Le ambientazioni ragazzi sono bellissime Anche questo Ok, ah ok Siamo già all'ingresso del villaggio Infatti Perché non c'è l'anima? Non so quanto questo possa essere positivo ragazzi Effettivamente Allora Qua non c'è niente Qua dentro ci sono un paio di cavalli Che sembra di essere Eh sì Ma giustamente sto bambino ragazzi non ha mai tipo visto il mondo esterno Come pretendiamo che sappia le cose del resto del mondo Va bene Allora, a parte i polli Poverino Magari ha fame Ma ci vuole c'è un bambino Come fa a controllare i propri istinti Senza esprimere il proprio visaggio Vabbè Io sto provando ad esplorare un minimo Per vedere se c'è qualcosa Di importante Ma sembrerebbe di no ragazzi Sembrerebbe essere tutto totalmente riservo Eh, speriamo che non sia un brutto segno Effettivamente Per cui immagino che adesso dovremo seguire il fumo Suppongo proprio di sì Va bene Comunque Signora, signora Oh Signora Era qua Era qua Eh sì L'ho mutato Signora Oh Scusami Sono la sua figlia di Lord Robert de Rune Siamo attaccati Ne abbiamo bisogno di aiutare Por favor È molto caldo Oh piccolo Manco a mio fratellino Volete aiutare Siete proprio dei pezzi di merda Ma davvero non c'è nessuno Io Aspetta Hugo Eh, quella domanda Vieni qua Non ti allontanare da me Perché c'è tutto Oh Sto pesce mi sa che Non è in ottime condizioni Ragazzi Eh, se lo sapessi E mi siate Lo direi Qua è andato tutto a male però Adesso che ci faccio caso Pesce Qua c'è della carne Ragazzi C'è Tutto abbandonato Tipo da un po' Comunque Perché per Marcire così tanto La roba Ok che allora Non avevano i frigoriferi Come adesso Eh sì Si stanno proprio nascondendo Piccolo Yo Yey C'è nessuno qui Addirittura Yo Oh Ragazzi Qualcuno Qualcuno ci aiuti Per favore Come non ho detto Siamo ritornati da qua Vabbè ragazzi Ho gironzolato un po' Qua intorno Non riesco a trovare nessuno Proviamo ad andare A sinistra Questa volta A seguire magari Con la scia di fuori C'hanno proprio Proprio cacciati ragazzi Oh Guardate che Tiro le pietre Non mi faccio Tanti Tanti scrupoli Che cavolo Ma io Le tiro una Alla dentro Non posso Dai fatemi Tira una pietra Dai No Non mi lascia Qua non c'è più Niente da fare Ragazzi Vediamo un po' Se adesso che abbiamo Raccolto le pietre Possiamo fare qualcosa Qua intorno Proviamo ad andare Di qua Ok ma Ok ma Sì però Calmati Emissia Non trattarlo così Di merda Come passa Per una cosa del genere Ok quindi Già c'era qualcosa Che non andava Cioè Lei sapeva Di questa questione Chissà perché Per evitare Qualche altro Tipo Di contagio Insomma Cioè Di solito Bruciavano tutto Ragazzi Ok Sto quartiere È proprio Messo male Ho capito Ma porca vacca Miseria L'estorsione è tragica Non credo Io Quasi Pecce Quasi 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 Non No Espera Sì Sì Uma Una Ogni Ma che diamolo dici? Ma perché? Ma che tipo? Ma cosa stai dicendo? Sveglia, zio! Cioè, corri corri! Oh, merda! Ok, di qua! Niente scontro diretto per noi, mi dispiace ragazzi, ma ho un bambino! Oh, merda! Entrai, entrai! Ok, sarà un problema perché hanno visto dove siamo entrati? Il tipo suppongo che non si muoverà, vero? Va bene, allora ci sono delle cose di metallo, non so se basteranno a distrarre il tipo. Verrà fin qua giù? Davvero? Ok, tu vai, amico, eh? Tu vai! Controlla tranquillamente quelle padelle. Zitto, zitto, Yugo, perché se no... Ci falciamo scalpo il tipo. Ci siamo, ci siamo. Sì, sì. Proprio, proprio. There you are! Oh, no, 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 no! Niente da fare. Eh, non lo so, pensi che sappia dove stiamo andando? Ok, bello il dettaglio che Amicia si copriva la faccia. Vai, 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 vai! Ok. Che schifo, che stanno? Ok, per spingere, tirare e indirizzarlo. Ok, premiamo cerchio per lasciarlo, perfetto. Dovremmo appoggiarlo lì, ragazzi, contro la parete, per poter salire lì. Come fa sto povero bambino a fare sforzi simili, non lo so. Ecco fatto. Ah, perfetto. Resta un attimo qua. Non preoccuparti, fammi controllare se c'è qualcosa. Tu tanto stai tranquillo che sono qua. Perfetto, sono pelli, pelli gli animali, non so cosa sia, no? Vabbè, prendiamo quante più pietre possibili, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, dai. Ok, con calma. Non preoccupiamoci, tutto andrà bene. Sì, sì, tutto andrà bene. Allora... Qua ci sono altre pietre. Ok, non possiamo più prenderne perché già ne ho 6 di 6. Però io là sopra non ci arrivo, no? Resta un attimo qua, eh. Fammi controllare che cosa posso fare. Ok, ragazzi, questa scatola deve esserci d'aiuto. Infatti. Eh già. Ok. Non abbiamo... Ok. Oh, suppongo che dovremo muoverci, vero? Spingiamo in questo caso, tiriamo. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, è uguale. Importante è il fine, non come lo si fa. Ok, riusciremo mai a metterlo sotto la finestra? Ce lo dobbiamo fare per forza perché non voglio di certo morire qua. Ecco fatto. A posto. Andiamo, Yugo. Eh, eh, Yugo. Volevo far salire lui. Vieni, vieni, vieni. Ti aiuto io, amore, ti aiuto io, non preoccuparti. Poverino ragazzi, si vede così piccolo, così indipeso cosa che effettivamente è. Andiamo. Ok. Ok, continuiamo nella nostra folle corsa. Beh, no, non è così semplice. Poverino ragazzi, non è così semplice. Eh, ma che palle è! Chi è stata la sfiora di merda? Chi è stata? Vieni, sali, sali, sali. È, sta va a perdere! Muoviti. No! 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 Grazie, grazie, Yugo. Chi è stato? Chi va? Non lo lasciami! Amicia, vieni qui! A questa parte! Ci sono, ci sono. Ho trovato questo, quindi puoi correre. Ok, stavo cercando di rappicare sul ledera. Guarda, guarda. Dai, muoviti però. Muovite, muovite. Muovite. Oh! Non ho capito che devo fare, sinceramente. Ah, aspetta, devo far cadere quella? Ok, e tra poco arrivano, però, eh. Mi auguro di no. Bello stare qua sotto a rispettare che arrivino persone che vogliono ammazzarti. Ci siamo? Eh, vabbè, dai. Infatti. Non è colpa tua. Sì, sì, andiamo. Non è colpa, non colpa Lorentius. Eh, dobbiamo trovarlo, sto benedetto Lorentio. Scusa, eh. Siamo venuti qui apposta. Oh, oh. Ah, ecco. Andiamo via, andiamo via. Tranquillamente. Cavolo. No! Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, dai. Andate, ragazzi. Andate. No, 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 seguimi, seguimi. Prego, prego, prego. Vada, buon uomo, vada. Non si preoccupi di noi che stiamo per passare di qua. Ok, allora, qua c'è dell'erba alta, la cosa ci può fare comodo, assolutamente. Prendiamo qua il vaso, visto che c'è. Probabilmente ci servirà. Infatti dovremo usarlo, ragazzi, per attirare questo brutto deficiente lì. Vai lì, proprio lì, in quel punto. Non lo so. Perché non vai a controllare? Intanto noi attraversiamo, eh? Grazie per la collaborazione, è stato gentilissimo. Perfetto. Oh no, non ancora. Oh no, eh che cavolo. Beh, è un incubo. Eh, dove capita? Dove è libera la strada? Non so perché. Oh no. Quickly, per favore. Eh, lo so, ce sto provando. Dai, entra, entra. Forza. Perché non chiudi? Perché non chiudi? Perché non chiudi? Oh no, è un incubo. Edesso? 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 Che faccio? Che faccio? Che faccio? Ah, di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua, Hugo. Hugo. Di qua, di qua. Muoviti, muoviti. Ho pure perso in troppo tempo. apri 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 yugo ti prego ti prego muoviti ti prego muoviti cospita muoviti corri 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 nicchia che ansia ti sembra il momento di fermarsi questo ci sono degli uomini armati che vogliono ammazzarci e farci tipo la pelle oh merda no non può grazie grazie vecchia signora anziana signora grazie me siete garate addosso eh si ma lei è malata signora ok ce l'abbiamo fatta a sfuggire perfetto direi che il caso è di andarci a cambiare vestiti anche se i tizi hanno detto che questa è la parte più infetta del villaggio io non è che mi sento poi così tanto sicura a stare qua però questa vecchia signora è così gentile che bello dove vai oh vieni qua ma vieni qua e continuano a dirmi tieni premuto a cerchio per saltare saltare dove sono mi nominato è Clermi mi è l'amica e l'amica e l'amica è Hugo voglio ringrago grazie Grazie. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Grande, signora. Gentilissima. Feel free to use the tools by the workshop. Ok. Prendi le trese vicino al banco da lavoro e quello nel quartile sul retro. Grandioso. Quindi è un modo per fare tipo degli upgrade o robe del genere. Cioè... Almeno così deduco. Strisce di cuoio, strisce di cuoio. Dove saranno le strisce di cuoio? Dove saranno? Dove saranno? Non lo so. Oh. Eccole qua. Eccole qua. Ce li avevo sotto al naso. Ok, il cuoio. Eh... Perfetto. Prendiamo gli attrezzi. Che sono questi. Ok. Uno su otto però. Attenzione. Prendi calma e concentrato. Interessante. Allora, aggiusta la fionda sul banco da lavoro. Mentre aggiusta la fionda in missione approfitta per cambiare alcuni materiali. Così facendo aumentare la voce digitale e proiettili fino a renderle letali. Fino a rendere letali i colpi alla testa, semmai. Perfetto. Teniamo premuto per riparare la fionda. Con questo sappiamo fare. Grandioso. Certo. Ok, interessante sto sistema di miglioramento. Mi piace. Perfetto. Qua ci dicono ovviamente i materiali che ci servono. Perfetto, però interessante sta roba ragazzi. Ci sono anche le curiosità riguardo gli oggetti che si trovano in giro ragazzi. Interessantissima sta cosa. Puoi aprire il menu creazione in qualunque momento facendo click. Ok. Ma hai bisogno di un laboratorio per migliorare eccetera eccetera. Perfetto. Va bene, la signora anziana è stata gentilissima. Ah, quindi? È molto meglio. Grazie Clurvie, grazie per tutto. Che cazzo fai? Oh. Ciao. Ciao. Grazie. 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 pesante? Eh vabbè però. Stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, non l'ho colpito neanche una volta ragazzi, non so se ci rendiamo conto di questo. Eh vabbè. Oh ok, ah gli è saltata, gli è saltata. L'armatura con calma. Oh si è arrabbiata, si è arrabbiata. Oh si è arrabbiata. Madonna se mi prende quella mazza ragazzi, se mi prende quella mazza è la figlia. Oddio. Con calma amico, con calma, non devi essere così furioso. Ok, ok, però. T'ho mai sto. E' saltata anche l'elmo, per sbaglio. Ma perché c'è gente che ha fallo il tipo? No, non siamo mica una partita di calcio ragazzi. Sì però me ne devi dare il tempo mio mio. Stai fermo, ti dovrei stancar prima o poi. Eh vabbè, ma questo qua lì è super per me. Dale, tommai sto. Oh. Era l'ultimo sasso che avevo. Ueeeh! Uuuhè! 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 Dai, Emisa, non ti farei tanti scrupoli, dai. Lui voleva ammazzarti. Sì Ho dovuto Amore Io ti proteggerò sempre Vuoi a chi ti tocca E' la chiesa? Cos'è? Perfetto, qua inizierà il terzo capitolo Che si intitola Rappresaglia Il tempo a mia disposizione, quest'oggi è finito Insomma, stiamo ancora aspettando di entrare Ovviamente nel vivo del gioco Ragazzi, perché siamo ancora proprio all'inizio Che dire, non vedo l'ora Di continuarlo Questo video termina qui Grazie a tutti, un bacione E obdash a tutti ragazzi Ciao! Vi ricordo ragazzi Che se volete questi anti-aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link Nei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao!